Allora, vediamo un po' di capire. Le cause dell'autismo? Tuttora, questa è una domandona, perché è una domanda a cui la ricerca scientifica continua a cercare una risposta. Non c'è una risposta chiara rispetto a questo. La ricerca, stando andando avanti, sicuramente è appurato che è un disturbo a base neurobiologica. Quindi riguarda dei meccanismi, dei funzionamenti del sistema nervoso centrale. Ecco, quindi c'è una base genetica, quindi c'è una grande predisposizione, ereditarietà, ci sono le ricerche sulle famiglie. Infatti, perché tante volte su famiglie, anche vissuti in luoghi particolari, anche in luoghi magari particolari isolati, sono stati scoperti tanti casi di autismo. Perché, come per tanti altri disturbi di tipo psichiatrico, perché parliamo dell'autismo, ma è un discorso anche di altri, il fattore, diciamo, temperamento, carattere, personalità, anche questo è un fattore che in qualche maniera si eredita in parte. Quindi fa parte un po' di una dotazione genetica che può essere ereditato, ma può essere anche dei problemi di tipo genetico, molecolare, cromosomico, anche nuovi, che emergono, voglio dire, come nuova mutazione. Quella è una base. Poi stanno studiando anche tutta una serie di fattori più di tipo ambientale che mettono in correlazione i meccanismi tra il gene e l'ambiente, dove l'ambiente può essere l'ambiente uterino, l'ambiente nei primi anni di vita. Forse ci sono dei fattori anche sempre di tipo biologico, in qualche maniera, che fanno scattare un meccanismo su cui c'era già una predisposizione, come un pulsante che qualcuno accende per scatenare un problema. Però tuttora non c'è una spiegazione e questo è un po' un problema perché finché non c'è una causa, una specifica causa, c'è purtroppo anche molta possibilità per ipotetici trattamenti o cure, cioè o vorrei mettere un po' in guardia dove si parla del curare l'autismo, del guarire, perché l'autismo non è una malattia, è una condizione, è un modo di essere, è un altro modo di stare al mondo con diverse forme. Però non è qualche cosa che si cura, non è una malattia, quindi non è che si cura e si guarisce. Certo, si possono avere degli ottimi miglioramenti e acquisire in maniera appunto, attraverso dei trattamenti, quelle abilità che da sole non si potrebbero acquisire. Quindi ecco che l'ambiente, la famiglia, la scuola e dei trattamenti molto specifici possono anche far girare il corso degli eventi e far sviluppare a queste persone una vita autonoma, soddisfacente e certo con delle peculiarità, con delle caratteristiche, magari sono persone che restano un po' bizzarre, piuttosto che un po' associali, però perché no, il mondo è pieno di neurodiversità, per cui ci stanno, come nella popolazione, come del resto anche nella popolazione ci sono tanti adulti o tante donne, adesso c'è tanta anche la richiesta per donne che hanno il dubbio di avere la sindrome di Asperger e allora si spiegano tanti problemi. Loro spesso hanno il dubbio. Loro spesso. Spieghiamo che cos'è questa sindrome di Asperger, di cui tanto si è parlato. La sindrome di Asperger è una forma dei disturbi dello spettro dell'autismo, proprio perché è un arcobaleno, che ci sono tante forme diverse, ci sono anche delle forme in cui sono persone intelligenti, sono persone con un ottimo linguaggio, qualche volta anche un po' troppo, perché il problema può essere che sono logorroici, però che fanno comunque fatica a stare in relazione con gli altri, che hanno una difficoltà anche a gestire degli aspetti sensoriali, sono ipersensibili ad alcuni aspetti e hanno una modalità comunque di pensiero rigida, stereotipata, fissa, degli interessi molto particolari e solo loro e quindi per esempio non fanno amicizia con i compagni o con i bambini perché parlano di argomenti che a loro non interessano, dicono sono cose banali, a me interessano delle cose molto specifiche, molto settoriali, ma possono essere delle cose strane, tipo interessarsi di politica in prima media oppure avere la conoscenza di tutto quello che ha a che fare con i segnali stradali, ma soltanto quello e voler parlare solo di quello anche con gli altri, quindi diventano un po' bizzarri. Tornando a questo, l'Asperger quindi è una delle forme di autismo, adesso non si parla più di sindrome di Asperger perché con la nuova manuale si parla di autismo ad alto funzionamento, ma in ogni caso sono persone, uomini e donne, che comunque hanno fatto tanta fatica a stare in mezzo agli altri, hanno fatto tanta fatica anche a tenere i ritmi degli apprendimenti, quindi a scuola hanno fatto spesso tanta fatica, possono avere degli altri problemi, come un problema di attenzione o un problema di coordinazione motoria, spesso sono disgrafici, disprassici, non sanno giocare, in educazione fisica hanno provato tutte le discipline ma non ci riesce, un problema di coordinazione. Ecco, ci sono delle persone che aumentando la conoscenza sull'autismo, magari leggono dei libri o leggono degli articoli e si riconoscono e da adulti chiedono una consultazione effettivamente per avere poi una diagnosi e quindi si spiega il problema che avevano avuto. Esatto, questa è la cosa, perché se dovesse succedere, verificarsi questo, uno può andare a decriminare sui propri genitori, sui propri educatori, ma perché non mi hai aiutato prima, perché sono arrivato all'età di tot anni, ma realizzando questa situazione oppure no. Quindi, i genitori, come possono in questo caso con una sindrome, se vogliamo dire, marginale nel grande spettro dell'autismo intervenire e stare un po' attenti e aiutarli, perché penso che dandogli una mano fin da subito queste persone poi un domani non debbano più di tanto, cioè consapevoli, insomma, affrontare l'inversamento. Ma soprattutto anche dare, quello che possono fare è leggere in maniera diversa i problemi, questa è la differenza, perché i problemi si osservano, da cosa li possono osservare? Beh, che fanno fatica a scuola, che gli viene detto che non interrogiscono con gli altri, che hanno un loro mondo comunque in cui preferiscono stare da soli, possono avere anche delle difficoltà di relazione con loro, quindi tra genitori e figli essere in difficoltà, ma si vede nei contesti sociali, si vede a scuola e fuori scuola. Quindi, solo che se io quel comportamento so che fa parte di un disturbo, non mi arrabbio più, non posso arrabbiarmi, perché io mi arrabbio se vedo che un bambino non fa una cosa pensando che dovrebbe farla, pensando che la può fare, ma perché non giochi così, ma perché non stai attento, devi stare attento. E invece, se quel sintomo lì fa parte del disturbo, è proprio fuori dal controllo, non c'è consapevole. Quindi si trova il modo, certo, per migliorare l'attenzione, per migliorare lo stare con gli altri, ma capendo che fa parte di un problema. Quindi, sia per il ragazzo o la ragazza, ma sia anche per i genitori, si dà un'altra spiegazione di quella disattenzione. Ecco, spesso possono essere dei ragazzi che sono disattenti, distratti, si perdono nel loro mondo e a scuola una delle manifestazioni è che che non stanno attenti. Ma non è che non stanno attenti disturbando, non stanno attenti perdendosi proprio nelle loro fantasie. Tanti ragazzi non stanno attenti, non è questo il problema. Il punto è che se poi non riescono a partecipare a scuola, non riescono a fare quasi nulla di quello che c'è, diventa un problema per loro, non è un problema per gli insegnanti. Se è un problema per loro, allora per esempio questa forma di disattenzione, bambini intelligentissimi, perché gli Asperger sono molto intelligenti, quindi non ti torna, come mai sei così intelligente e non riesci a stare? Come mai stai per conto suo? Ci sono un po' delle discrepanze, ci sono delle cose che non tornano. E perché le dicevano, non è l'intelligenza, perché anzi sono persone magari che hanno delle attitudini anche matematiche straordinarie. Possono avere i classici talenti di cui si parla, spesso sono persone. Un genietto della situazione che però vive isolato in un proprio mondo. Perché fa parte di quel mondo di interessi su cui loro focalizzano tutta l'attenzione. Allora in quelli poi diventano bravissimi, diventano iper selettivi e possono diventare molto molto competenti, perché hanno una capacità di rimanere su quell'argomento o su quel tema ore e ore e ore senza distrarsi e senza farsi influenzare dagli altri. Questo può essere anche un punto di forza. Per molte persone può essere un punto di forza. Quindi poi trovano magari una situazione lavorativa in cui diventa una grande qualità questo. Perché di per sé nulla è un problema o un'opportunità, dipende un po' dal contesto in cui si fa. Quindi sono persone che hanno queste grandi capacità, però poi mancano di altre, più pratiche, più per la vita di tutti i giorni. Cioè il sapersi gestire da soli, andare a fare la spesa, piuttosto che anche banalmente allacciarsi le scarpe, sapersi gestire il denaro, quell'autonomia personale su quello magari cadono, però sanno programmare magari il computer. A questo punto l'intervento di una persona, di psicoterapeuti, di psicologi, il supporto e l'adozione anche di protocolli di un certo genere. Per questi casi di autismo più lievi serve? E quindi la vita autonoma, perché adesso si parla di vita autonoma, per tantissimi casi, dagli handicap, le disabilità, molto molto gravi, a quelle più lievi. Perché ovvio che l'entrare in strutture organizzate non è assolutamente pensabile, un domani chissà poi, se ci potranno essere. Può avvenire e quindi può servire un aiuto per, come diceva lei, dalla banalità di rilacciarsi le scarpe, che una mamma dice, se un domani io sarò anziana, come farà mio figlio a fare la spesa, a gestire i propri soldi? Sono cose su cui va riflettuto, no? Assolutamente. Sono due filoni su cui ci si può muovere, pensando all'adolescenza e all'età adulta. Cioè, uno è quello di continuare a costruire delle abilità, ad allenare delle competenze, a cercare di migliorare la situazione. Sì, però a quel punto ha più senso partire direttamente dalle abilità che esistono, che sono, voglio dire, già una buona predisposizione, e allenare lì. Perché l'altro filone è quello invece del adattare i contesti, creare e costruire delle situazioni scolastiche e lavorative che quindi tengano conto dei problemi della persona, che chiedano a quella persona le abilità che possiede, ma che non gli chiedono lo sforzo, non pretendono che lui si normalizzi o che lei si normalizzi. Quindi anche creare delle situazioni di lavoro banalmente può essere anche la struttura, cioè la differenza tra un open space e un piccolo ufficio chiuso dalle finestre, gli orari di lavoro, questi aspetti qui, cioè costruire degli adattamenti in modo tale che gli adattamenti tengono conto del tuo autismo, rispetta il mio funzionamento. C'è una sorta di, scrivo un messaggio, c'è una sorta di decalogo per capire se il proprio bambino soffre di questa patologia? Allora sì, i pediatri hanno a disposizione anche degli strumenti, si chiama chat, sono delle indicazioni per individuare alcuni aspetti. È sempre molto un po' rischioso individuare con delle domande c'è o non c'è, perché uno stesso problema, può essere il bambino non parla, potrebbe essere dovuto all'autismo, ma potrebbe essere dovuto anche a tanti altri problemi. Quindi, diciamo che sono ben forniti da questo punto di vista, sono ben organizzati i siti anche delle associazioni, dei familiari, per esempio l'Associazione Nazionale dei Genitori Soggetti Autistici, ANGSA, fa parte di una rete, anche Autismo Europa, in cui tiene aggiornate quelle che sono le indicazioni anche scientifiche, perché non tutti poi i gruppi possono seguire delle linee scientificamente baldate. Ma per esempio, forse la domanda anche è rivolta a questo, un genitore... Quali cose vedere? Esatto, un genitore ci sta ascoltando, ha un bambino, io penso possa essere magari un bambino piccolo, e dice, ma è un po' strano, si dice sempre così, è un po' strano, è originale, eccetera, prima però di muovermi, quindi anche psicologicamente, con una persona, andare da uno psicologo, in un centro, che è sempre un passaggio anche emotivo molto difficile da fare, lo si fa sempre più in là, perché fa anche paura, come tutte le cose. Posso vedere io già, mettendo che il pediatra, come succede, tante volte non ha detto niente, perché non se ne accorgono, non tutti i pediatri sono illuminati. Allora, per vedere alcuni spot, di alcuni aspetti, può essere, il bambino guarda negli occhi, o la bambina, c'è un chiaro contatto oculare, quel contatto oculare, che però è proprio l'aggancio, in cui ci si guarda, ci si sorride, si sorride insieme, e quindi c'è proprio uno scambio, e quello è da molto piccoli. Due, prende delle iniziative, verso l'altro, nel senso che, mi viene a chiamare, per indicarmi qualche cosa, per esempio, un altro aspetto importante, tre, indica, c'è l'indicazione, l'indicazione può essere per due cose, può essere l'indicazione per dire, voglio quel foglio, voglio quella bottiglia, ma può essere anche l'indicazione per dire, guarda che bell'aereo che sta passando, quindi, l'indicare, guardare la persona, e magari anche fare qualche, qualche suono, no, i bambini, indicano, guarda, e fanno qualche suono, questa è una cosa da osservare, l'altra cosa, di trasmettere un'emozione, un altro in modo da dare qualcosa, coinvolgerlo nei propri giochi, e anche la qualità dei giochi, fa solo dei giochi, di far girare le cose, esplora i dettagli, oppure proprio, fa girare le macchinine, prende le bamboline, usa i giochi per quello che serve, oppure tende magari a allineare, impilare, e fa solo quello, come si comporta con altri bambini, o altre persone, sembra interessato, li va a cercare, un altro aspetto da molto piccoli, è l'imitazione, sa imitare, se io faccio così, poi lui fa così, se io faccio una boccaccia, lui la imita, ripete quello che faccio io, proprio per il gioco di, lo faccio io e lo fai tu, l'imitazione per esempio, è un problema per le persone con autismo, questo potrebbe essere già un sintomo, questo può essere una cosa, la capacità di imitare l'altro, e poi si arrabbia molto facilmente, un altro aspetto per i bambini piccoli, è anche avere problemi, disturbi del sonno, disturbi dell'alimentazione, quindi i bambini che non hanno una regolarità, nei ritmi, che non imparano a dormire con i ritmi adeguati, l'alimentazione, e può essere anche una sensorialità un po' spiccata, cioè che magari non sopportano, mi viene in mente una bimba, che quando era piccola non sopportava l'acqua, e quindi facevano fatica a lavarla, perché dava fastidio l'acqua, altri che invece dava fastidio mettere i calzini, oppure togliere i calzini, quindi anche in spiaggia, dovevano essere sempre con i calzini, degli aspetti di selettività, oppure reagiscono in maniera molto forte, ad alcuni suoni, ad alcuni rumori, questi possono essere alcune delle cose da osservare. Allertarsi, dire bene che lo porti da una persona, che mi possa fare una valutazione più specifica, più scientifica. Tenere sott'occhio, perché poi nella prima infanzia ci possono essere delle ipotesi diagnostiche, tanto più sono piccoli, non è detto che la diagnosi sia quella, sia quella definitiva, però si può intervenire, comunque intervenire come se. Esatto. Allora, il vivere in famiglia, altro aspetto, vivere in una socialità, e poi un altro, il conoscere, come le diceva l'autismo, per le persone normali, cosa può servire. Dopo la pubblicità, tra poco. Grazie. 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 Grazie.